Chiamerei sul palco il presidente di IDEA, Gaetano Guagliariello, per spiegarci un po' quale apporto può dare il suo movimento alla causa del centro-destra e in particolare cosa ne pensa di quanto detto da Matteo Salvini sull'Europa, lui che è anche uno studioso e un esperto di riforme. Innanzitutto devo dire una cosa, buongiorno a tutti, grazie Giorgia, grazie a voi. Prima cosa che direi è che le mamme danno buoni consigli perché Matteo Salvini è stato molto più simpatico del solito, anche più buono, più bello. Quindi insomma questo è un test sull'importanza delle mamme. Ma io poi il contributo che il mio movimento può dare, secondo me è un contributo di buonsenso. Noi che cosa abbiamo constatato? Abbiamo constatato che le tre cose che si dovevano fare in questa legislatura non sono state fatte. Bisognava scrivere delle regole insieme e che dovevano essere condivise. Bisognava salvare l'economia, bisognava rinnovare le culture politiche di destra e sinistra perché i problemi del ventunesimo secolo sono completamente diversi. Io lo dico soprattutto a voi ragazzi. La nostra generazione discuteva di ideologie. Oggi in Parlamento ci si divide su problemi come i vaccini, come l'animalismo. Cioè problemi che qualche anno fa non esistevano nemmeno. Cioè l'agenda politica sta cambiando. Bene. Matteo Renzi ha fallito tutti e tre questi obiettivi. Le regole le voleva scrivere solo per sé. L'economia è andata indietro anziché andare avanti. E devo dire che l'unica cosa sulla quale ha fallito ma che poi non ci dispiace è che piuttosto che rinnovare la cultura politica del suo partito l'ha distrutta. Su questo diciamo la verità ci ha dato una mano. Abbiamo provato per tanti anni a distruggere il PD, non ci siamo riusciti. E' arrivato Renzi in due anni, più o meno l'ha fatto fuori. Ora, cari amici, ma qualcuno di voi pensa veramente di poter fare un accordo, un patto delle larghe intese? Vi parla uno che non è contrario in generale alle larghe intese. Secondo me se c'è un'emergenza nazionale, Beh, insomma, se si è tutti quanti italiani e patrioti le larghe intese si possono fare. Ma innanzitutto ci deve essere l'emergenza. In secondo luogo non ci deve essere Renzi. Ma come si fa a fare un patto con uno che ha tradito tutti i patti? Questa legislatura ha dimostrato che i patti non riesce a tenerli manco in famiglia. Nemmeno col suo babbo. Ma come facciamo a pensare solamente una cosa del genere? In una situazione nella quale, io non so se vi siete resi conto, ma siamo completamente fuori di testa su tutti i provvedimenti. Cioè qua bisogna sperare solo che finisce la legislatura e non si fanno altre cazzate. Vogliamo ricordare soltanto alcuni degli ultimi provvedimenti? Beh, una legge sulla legittima difesa, si può discutere, le armi si possono usare sì o no, ma il fatto che tu le possa usare dalle otto in poi e quando scatta l'ora legale invece devi astenerti per un'ora in più, questa mi sembra francamente una cazzata. Il fatto di pensare solamente in una situazione del genere ad una legge come la legge Fiano vuol dire far fare a questo Paese un salto indietro di 50 anni. Ma come? Non possiamo fare i conti con il fascismo? Non possiamo avere un giudizio critico su un pezzo della nostra storia dal quale certamente abbiamo avuto dei problemi, non ne siamo usciti bene, ma le paludi pontine, i sacrari nei luoghi dove si è svolta la prima guerra mondiale, che vogliamo fare? Vogliamo radere al suolo latina per far dimenticare che c'è stato il Duce? Vogliamo tornare al tempo nel quale io ero un giovane ricercatore e dovevamo avere le bolle... ...Renzo De Felice solamente perché parlava del fascismo senza il politicamente corretto e dicendo le cose come erano state, chiamando l'Italia a fare i conti con questa stagione. E poi, scusatemi, ma non si è fuori di testa in un Paese nel quale il Ministro degli Interni ha detto una cosa che probabilmente non avrei detto neanche io, che per i flussi migratori noi abbiamo corso il rischio di perdere la democrazia. Questo l'ha detto Minniti, Minniti. Con una mano ha detto questa, con l'altra voleva proporre lo Ius Soli, cioè far diventare l'Italia il Paese dove si dà la cittadinanza più facilmente in tutta quanta Europa. Cioè, da una parte corriamo il rischio della democrazia, dall'altra facciamo qualcosa per giocarcela ancora di più. Cari amici, in una situazione nella quale non abbiamo capito che la cittadinanza è un diritto personalissimo che si può esercitare soltanto se si aderisce a dei valori, se si sceglie quella patria, se tu ne accetti i principi, la cultura e le leggi. Ma non ci hanno insegnato nulla i ragazzi di seconda generazione che in Gran Bretagna e in Francia si sono ribellati ai loro genitori perché avevano scelto al loro posto. E perché non ci dicono la verità? La verità è che un ragazzo che nasce qui in Italia oggi ha tutti i diritti di un ragazzo italiano può persino vestire la maglia della nazionale se fa sport. Qual è l'unica cosa che non ha? Sono il diritto di voto che si esercita a 18 anni. E allora perché quella cittadinanza non la può chiedere lui se veramente la vuole e se dimostra di essere italiano e di amare l'Italia. Quale ragione? Quale ragione c'è? Allora cari amici, qua siamo in una situazione nella quale sono completamente fuori di testa. Il Paese tra qualche mese o viene... ...e allora il centro-destra al governo è una questione di salvezza nazionale. O governa il centro-destra o questo Paese non è governato. E allora se ci troviamo in una situazione di questo tipo, cari amici, noi dovremmo dire una cosa molto sensata. Credo che sia quasi scontata. E cioè il centro-destra deve stare insieme qualunque sia la legge elettorale. Non ha bisogno di una camicia di forza per stare insieme. Dovrebbe mettersi insieme per un progetto di salvezza nazionale. E allora se si fa questo, forse è anche più facile ragionare sulla legge elettorale. E portare a fare delle cose normali piuttosto che fare delle cose eccezionali. E tutti quanti noi ci sentiremo più sicuri. Questo noi lo dobbiamo non tanto agli elettori del centro-destra. Lo dobbiamo all'Italia. Perché soluzioni di governo alternative non ci sono. E chi ama l'Italia vuole che questo Paese sia governato. Sia governato in maniera normale. E che le pazzie che stiamo vedendo in questo momento cessino. Perché persone normali che sanno come si vive, sanno stare in mezzo alla gente e sanno quali sono le esigenze della gente, possano tornare a governare questo Paese. Grazie. Infatti è stato bravissimo, ha detto tante cose in dieci minuti perché purtroppo abbiamo i tempi contingentati. Grazie.